Buongiorno, quella sono io, Millie, la banale, noiosa Millie. Ammetto che se questo fosse un horror, sarei una delle prime a essere uccisa. Come ho detto... Ma non sono stata uccisa. Dove sono? Oh mio Dio, perché ho questa voce? Mi sono risvegliata nel corpo dell'assassino. Il macellaio di Blissfield colpisce ancora. Non aver paura. Tu sei nera, io sono gay, siamo già morti. Smettila, sono io, Millie. Se i castori sfiderai, troverai soltanto guai. Sì! E quello psicopatico indossa il mio corpo. Quanti dei nostri amici ucciderà? Oh mio Dio, è una carneficina. Non vedo l'ora di ucciderti. È ora di fermare questo stronzo. Noi ci siamo. Ridammi il mio corpo. Vieni a prendertelo. Lo so che ho l'aspetto del macellaio, ma sono Millie. È pazzo. Ok, Booker, mi guardi per favore. Booker! Booker! Vuoi chiudere la bocca? Booker! Vieni a prenderti!